Grazie a tutti e grazie per i piedi dello scuola per lo spettacolo, come ho detto l'altro giorno, perché noi facevamo tutti insieme i libri, lavoravamo a fare questi piedi invernali e facendo un po', diciamo, a basso morto, mi sentivamo gratis per le scuola, eravamo in forma e noi continuavamo a parlare, a parlare, a parlare, a rompere le scatole, e lui mi ha detto, bene, ho trovato la, tu sarai l'amore di questo buono, non ricorda, senza polvino, senza niente, proprio solo, poi ho avuto la prima cena d'amore con lui, non mi ha mai fatto, non mi ha mai fatto. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti. Grazie a tutti, grazie a tutti.